Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Acce. Il modello è in scala 1 a 8, l'edizione è a Shet e l'uscita è la numero 50. Prima di tutto ringrazio tutti voi i miei iscritti e le persone che mi visualizzano anche se non si sono ancora iscritte e a loro vorrei chiedere l'iscrizione sempre che ne abbiano piacere e di attivare anche la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine se ci fosse qualcuno che avesse piacere di farsi montare il modello da me, i contatti privatamente, grazie. Qua bisogna fare particolare attenzione perché se l'adesivo è davvero un adesivo buono non abbiamo un'altra possibilità poi di poterlo riposizionare. Comunque adesso vediamo io cercherò di darvi le informazioni e spiegarvi quello che io andrò a fare poi ognuno di voi scelga qual è la linea di montaggio per voi più giusta. Questo va messo ovviamente qui. Io sono andato già a dare un'occhiata e guardate io farò così. Prenderò il riferimento dei fori quindi ci entrerò perfettamente tutti e quattro. Ok? Per fare questo ho visto che questa parte di mochette mi arriva a filo esterno di questo pezzo di plastica. Qui sembrerebbe che non arriva proprio in fondo ma non ci interessa perché quella parte non sarà visibile perché il baule posteriore farà questo lavoro. E per quanto riguarda invece questo lato e questo lato, sempre facendo riferimento ai fori che sono quelli che ci interessano, devono coincidere perfettamente quelli sotto ovviamente con la parte di mochette, qui guardate ecco vedete non mi rimarrà a filo probabilmente ma rimarrà un po staccato così come anche qui non credo che rimarrà a filo. Comunque lo vedremo man mano che andremo ad attaccarlo. Io non partirò dal lato più lungo, non partirò alzando la pellicola protettiva dalla parte posteriore perché è più lunga e quindi per andare a partire bene devo attaccare una superficie maggiore. Comincerò da qua oppure da qua dove volete voi. Vediamo e speriamo che tutto vada per il meglio. Adesso è inutile che parlo perché c'è poco da parlare. Dovete avere pazienza, non dovete avere fretta. Questo video non so quanto durerà. C'è chi ci riuscirà subito, chi purtroppo rovinerà la mochette ma dovete avere assolutamente serenità nel farlo. Io comunque mi vado prima a centrare questi due con questi due fori qua sotto. ok. Io direi che va bene. Staccate un po' alla volta la carta è andata avanti però attenzione, attenzione a non fare l'errore di tirare questo perché se tiriamo questo pezzo, questa parte di mochette verrà staccata. Quindi dovete accompagnare con il dito e levare la zigrinatura che è stata dettata dal fatto che è stata piegata questa parte per metterla nel blister e andate a centrare qua senza mai tirare altrimenti la danneggiate. Ricordatevelo. se dovete staccarla vi dovrete aiutare con un phon per staccarla tutta. Scaldate il collante senza bruciarlo ovviamente. Ok. Ve ne accorgete se si strappa. Se fa troppa resistenza scaldatela con un phon, quello per i capelli ovviamente. Ricordatevi. Queste sono cose importanti. Bene, io sono molto soddisfatto di come è venuto. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua. Vedete? Qua è perfettamente centrato. Qui anche. Qui anche. E come vi avevo detto all'inizio, qui rimane il filetto della plastica che si vede rispetto alla mochetta che è più corta. E la stessa cosa di qua, vedete? E qui anche appena appena. Quindi va bene. Così. Tenete anche presente che nella macchina reale è un tappetino ammovibile, cioè si può mettere e togliere. Quindi non è che sono perfetti. C'è un po' di gioco ovviamente. Dovete far finta che questa sia una macchina reale. È stata riprodotta veramente bene. Poi, se dovete pulirla da polvere o cose che non riuscite a togliere, prendete un pezzo di nastro. L'importante è che non sia molto potente. Fate semplicemente così. Attaccate e staccate. E lei diventerà perfettamente pulita. Staccherete tutto quello che non deve essere presente. Mi raccomando, non molto potente perché vi si staccherà anche un po' di questo sopra, da questo motivo di mochette, da questo effetto mochette. Bene, adesso abbiamo finito. Prima di salutarci, prendo tutto quello che ho montato fino al numero 50. Ecco qua. E poi ci possiamo anche salutare. Ma attenzione, Michele si è dimenticato una cosa e avete ragione. la vogliamo mettere questa, o meglio questo, che è una parte metallica ed è il ponticello di bloccaggio della ruota di scorta. Andiamo a metterlo, anche perché me lo ero anche preparato, vedete. Mi sono già creato i filetti con il lubrificante. Eccolo qui. Non mi chiedete qual è il lubrificante che io uso. Nello specifico è questo, ma perché ho questo. Non è che ci va per forza questo tipo di lubrificante. Qualsiasi tipo di lubrificante. L'importante è che lo usiate quando create i filetti esclusivamente nelle parti metalliche. Vedete, io mi sono già messo le due viti H&M. Eccole qui. Me le vado a svitare. e vado a mettermi la mia parte metallica, che come ho già detto è il bloccaccio della ruota posteriore. Quindi quando si metterà la ruota qua sicuramente si farà passare una corda qua sotto che ci daranno e terraferma la ruota. Oppure ci sarà un gancio che terrà qua sotto. Vedremo. Potete metterla in qualsiasi maniera così o così non fa alcuna differenza. puntiamo il primo mettiamo anche il secondo controlliamo e stringiamo. ecco qui. Guardate quanto è bello questo pezzo. questo questo poi sarà la copertura del bocchettone della benzina il musetto una vera e propria opera d'arte tutte le luci funzioneranno noi ne abbiamo ben sei tutta la parte verniciata di rosso è in metallo e anche questa e la targa tutta in metallo lampeggiante bellissimo parafango anteriore sinistro la freccia sarà funzionante tutto in metallo è un modello veramente imponente supererà i 73 centimetri di lunghezza ed ecco qui ovviamente dovremo andare poi a togliere questi fili da qui e questo verrà fissato con due diti una qui e una qui ed è veramente bello sono veramente soddisfatto di questo modello questo modello è molto soddisfatto di questo modello tutto funziona tutto dalle luci di posizione alle luci primarie ovviamente luci posteriori stop ecco gli stop questa squadrata è la luce della targa e questa invece è la luce dell'abitacolo che io adesso ho posizionato qui per avere i due punti fondamentali che mi permettono di vedere subito l'accensione delle luci questo e questi infatti guardate che meraviglia che hanno fatto in questo modello per le luci abitacolo abbiamo questa e questa che sono le due leve con le molle all'interno vedete eccole qui queste due leve verranno poi montate sul piantone della portiera e quando ovviamente le portiere saranno chiuse chiuderanno il circuito quando saranno aperte creeranno il contatto infatti guardate guardate questa luce qui se io ne chiudo solo uno rimane sempre accesa come una macchina vera perché? perché chiudo una portiera ma l'altra aperta ma se io le chiudo tutte e due questa luce si spegne pronti? guardate avete visto? è un modello meraviglioso sono veramente soddisfatto ricordatevi adesso mi rivolgo alle persone che hanno montato questo modello che lo stanno montando come me che la luce abitacolo quando accendete l'interruttore generale deve rimanere accesa questa con il led circolare non questa con la luce della targa che è squadrato quello circolare deve rimanere sempre acceso si potrà solo spegnere come vi ho appena detto quando andremo a premere tutti e due i contatti qui bene io vi ringrazio del vostro tempo se volete aiutarmi ulteriormente per la crescita del canale condividete i miei video nei gruppi dedicati mi raccomando fatemi pubblicità ragazzi spero una buona pubblicità io vi ringrazio nuovamente del vostro tempo un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari da Michele ciao